Questa scatola è scatola buona. Può vedere? No, aggiunga. È vuota? Sì, è vuota. Questi posti assiccono un momento. Mia pressione va a 200. Allora, dicevo scatola buona. Hai visto vuota? Sì, sì, al coniello ha visto sì. Hai visto bene? Viste sì. Dai, scattalo. Diceva scatola vuota, eh? Adesso io scatto la vuota riempirà di colore. E faccio... Non fai quella faccia, tu puoi tre. E faccio uno, due, tre, eh? Faccio altra volta, eh? Eh, tu non passare, aspetta. No, tu, no, lui, no, tu. No, per carità, dobbiamo. Aspetta, passa di spettacolo, vai. Riprendi, riprendi, eh? Ecco fatto. E adesso di nuovo. Uno, due, tre. E adesso di nuovo. E adesso di nuovo. Ridi, 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 ridi. Ridi che è facile fare mago. Dai, vediamo tu come riesci. Dai. Ma non è la lega. Dai. No, stai seduta. Tu basta di... Di pure formula magica che tu vuole. Vediamo. Ah, è vero. Una. Uno, due, tre. Alla, fai giù. Alla, fai giù. Alla, fai giù. Tutta la... Lì, fai la cazzione. Alla, fai giù. Poi tu mi spiega come ha fatto, eh? Poi tu mi spiega come ha fatto! Brava! 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 Bene! Ma non è finita qui! Qui non finisce, no? Noi continuiamo. Anche adesso noi affrontiamo. Ma come faccio a fare le mangiure? Ma anche con noi. Io voglio. Margherita o fa le mangiure? Ostro e scordi le mangiure! Guarda, mi lavede meglio, eh? Corga! Gira che voglia, Corga! Punta! Molto bene! Allora! Lui adesso? Noi adesso abbiamo scatola, guarda, aspetta, ferma, ferma, fai vedere. Ti fai, no, guarda, ferma un momento. E' vuota scatola, eh? E' la vuota prima, vuota anche adesso. Vai, vai, ciao! Ecco qui! E poi, abbiamo anche... Questi vuoti, qualcuno vuole far vedere se vuota, fai vedere. Fai vedere che ho, facciamo lui. Vuota prima, vuota dentro. Anche no, anche no, anche no. Dicevamo, questo è vuoto. Adesso io prendo, faccio letto. Metto qui dentro, uno, due, tre, e faccio letto e sparì. Io dicevo che mette qui dentro, faccio letto, quanto bene così, uno, due, tre, faccio letto e sparì. Io adesso vado a vedere anche il libretto di istruzioni, eh? Ok. Allora, di nuovo. Vuoto. Vuoto, eh? Fai vedere? Vuoto. No, dov'è andato il francese? Vuoto. Vedi, è tutta manaccia, vuoi provare? Troviamo nel... Vuoto, eh? Opla. Dette il volteggio, porta male. E adesso, in questo cilindro vuoto... Mi piace mica venire fuori? Tu che cosa faceva lì dentro? Io facevo che solo 15 giorni che sono lì. Sì, ma tu perché? Perché mi hai messo lì dentro tu e sei andato via? Io ho andato una poca in vacanza. Vuoi andare chi in vacanza? Senti, adesso dobbiamo lavorare. Non voglio lavorare, voglio andare in vacanza. Fretino. Lui adesso fa il numero di sparizione. No, tanto non sei capace. Cosa ridi tu? È che è questione seria, sai? È questione seria, non è capace. E adesso ti fa sparire, stai vedere, eh? Scatola vuota. È vuota, eh? È vuota, è atto l'era. È tutta la gente. Ciao, ciao Ginevra. Vado, eh? Io posso figurare che il fatto è non ridere tanto, eh? Benissimo. Buon momento. Buon momento. Sì. Bene. Alice. Alice. Io prendo bambolina. Non è capace. Vuoi dentro? Tengo dentro. Ecco qui. Tengo non è capace. Bambolina è qua dentro. C'è la caduta. C'è la caduta. Bu! Bu! È una fintaccia. Io non avrebbe mai creduto quando ha cominciato a fare il mango 40 anni qua. Mi ha detto, ucciderai il mondo, sì? Ecco. Bene. Anche qui c'è il mondo perché ci sono problemi, eh? Momento difficile. Pronti? Uuuuuh! Adesso io faccio sparire bambolina, fai lavorare un po'. Uno, due, tre, bambolina, sparissi. Allè! 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 Bambolina adesso basta. Non è capace! Non è capace! Senti, Viola, tu adesso fai... No, è andato bene con biscotti. Vediamo, fai sparire bambolina, su! Tu che fai sparire, di qualcosa, sparissi bambolina, bambolina vai via. Dai! Vediamo, vediamo, vediamo! Abbracadabra! Vai via, bambolina! Hai sentito? Non vado via! Prova con buone maniere. Dici... Per favore, vai via! Per favore, vai via! Per favore, vai via, grazie! Per favore, vai via! Vedete, tu dici, per favore, vai via, bambolina! Dove tu hai messa adesso? Io come fa adesso? A chi chiede? Tu hai bambolina? No, lei non ha... Dove hai mandato bambolina? Eh! Come fai adesso? Non so tu! Come fai adesso? Dove vado a cercare bambolina? Io no, non è stato! Io adesso dove vado a cercare? Perché tu parla... Perché tu parla come l'idiano? Non so bene, è il tuo punto! Non lo vado, non è via! Io adesso ti mando in vacanza qui in montagna! va bene, vai al mare, basta che tu vai, io ti adesso, ti mando eh, si vai mandami, via via via, via via, via via, via via, ecco qui, vai a casa, va bene, ecco qui, mettiamo questi, uno, due, tre, tre, ah 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 ah, non puoi suprimere!